Buon pomeriggio e benvenuti al dialogo tra le righe di oggi che dedichiamo all'ultimo libro del Presidente Luciano Violante, Insegna Creonte, tre errori nell'esercizio del potere. Abbiamo ospite per discuterne con il Presidente Violante e il Presidente Matteo Renzi. Grazie dunque ai nostri relatori e a Pietrangelo Buttafuoco che abbiamo invitato a moderarli. Prima di passare a lui la parola introduco Daniela Bonato che è l'editor che ha seguito questo volume e che introdurrà appunto l'incontro. Grazie a tutti. Buon pomeriggio a tutti. Non vedo Luciano Violante sul video? Sì, ora c'è. Credo di poter dire che quando Luciano Violante si è accinto a scrivere questo libro, ma ce lo confermerà poi dopo, a partire dalla figura di Creonte e della tragicità delle sue scelte, non immaginasse che questo libro sarebbe uscito in un momento in cui l'oggetto del dibattito politico era proprio l'errore, gli errori, gli errori individuali, ossessivamente registrati quotidianamente, i passi falsi, i tratti comportamentali. Questo è stato il nostro dibattito politico più recente. Che sintomo è questo? È il sintomo di una politica schiacciata sul presente? È la conseguenza di una politica particolarmente personalistica che mette in capo a un leader di partito, a un capogruppo delle scelte solitarie? Anche Creonte era un decisore solitario, ma Creonte era il re di Trebbe, era un tiranno, non era l'espressione di una politica o di un progetto collettivo, di un progetto corale. Siamo qui oggi per parlarne, o meglio per ascoltarvi, ascoltare Luciano Violante che è l'autore di questo volume, con un testimone d'eccezione, un protagonista della vita politica che è Matteo Renzi e Pietrangelo Buttafuoco che ci aiuterà in questa stanza virtuale a lasciare fuori dalla porta il clamore della cronaca e dell'animosità che in qualche modo adesso è legata, ci aiuterà a capire per cosa ci insegna ancora Creonte e perché in qualche modo è uno spunto per la politica anche odierna. Grazie, buonasera a tutti voi. Mi permetterete di togliere per un attimo, togliermi dal mio ruolo di moderatore e mi presento a voi in una mia vecchia veste, che è quella di Libraio, e quindi di presentare innanzitutto il libro in quello che è la sua fondamentale novità, quella di ribaltare la prospettiva storica a cui siamo abituati, partendo proprio da una sottolineatura che Luciano Violante in insegna Creonte, porta all'attenzione di tutti noi attraverso un'immagine, ed è questa, e cioè che le tragedie greche possono essere rappresentate in abiti a noi contemporanei. Vuol dire che un qualcosa che probabilmente non ha avuto mai un esito di esistenza è presente nella nostra memoria, nella nostra storia, tant'è che noi con Antigone veniamo a conoscere della storia di Creonte e veniamo a conoscere di un qualcosa che ci riguarda, cioè la tragicità della politica che inciampa continuamente nell'errore. Adesso torno moderatore presentando il libro perché in questo lavoro, Luciano Violante, in questo suo saggio, mette innanzitutto se stesso, la sua esperienza, le sue giornate da protagonista della politica, da studioso, da intellettuale, da giurista, e quindi in un corpo a corpo con quella che è la memoria della tragedia, andando a individuare tre errori fondamentali nell'esercizio del potere, che tra parentesi è arte nobile per eccellenza. E gli errori sono tre. Aprire un conflitto senza saperlo governare, sottovalutare l'avversario e sopravvalutare se stessi e fare della propria personalità, della propria arroganza, una supposta onnipotenza. Ed è proprio tutto ciò che Creonte incarna. Perché comunque Creonte rispetta la legge. La storia di Creonte la conosciamo attraverso il racconto di Sofocle, è la tragedia del potere che si autodistrugge e difendendo un principio giusto, garantire l'ordine a Tembe, precipita nell'errore perché non riesce a cogliere il passaggio fondamentale tra ciò che è la regola, ciò che è la procedura e dall'altro lato l'irrompere di un valore, un valore profondo quale poteva essere nel caso di Antigone, radicato e incardinato proprio nell'essenza carnale della sua esistenza di sorella, o dall'altro lato un valore ancora più potente di quanto possa essere la legge. Chiudo la presentazione del libro andando ad offrire al lettore un'immagine che mi ha particolarmente colpito nella lettura di questo libro, cioè quando Luciano Violante, facendosi carico di questo obbligo di raccontare la tragedia in abiti moderni, sostituisce alla immagine di Creonte quella di uno dei protagonisti della storia a noi più vicina, Margaret Thatcher. Nel ruolo di Antigone c'è un giovane ribelle, un protagonista di quella stagione incandescente, tragicissima quale fu la lotta dell'indipendenza degli irlandesi, che noi conosciamo, Matteo Renzi che qui presente sa perfettamente a quale corda romantica ci rivolgiamo, che è quella degli U2, ed è Bobby Sens. Bobby Sens che è forte anche di un appello tonante, qual è quello del suo comandante primo, cioè Giovanni Paolo II, il Papa, che lo invita a recedere dalla sua decisione di suicidarsi per protesta, malgrado ciò porta in atto una disobbedienza alla legge e Margaret Thatcher, che come Creonte invece deve tutelare l'ordine, in quel frangente si autodistrugge. Io qui, allo stesso presidente Violante l'ho segnalato, c'è una componente forte che è quella del romanticismo politico, dell'inevitabilità della tragicità politica. È ancora una volta da Libraio Dico coerente col catalogo del mulino, proprio perché ripercorre tra le categorie del politico quella dimensione dove l'io diventa noi. Mi taccio nel ruolo di presentatore e adesso arrivo in quello di moderatore. Approfittando di due interlocutori così autorevoli e importanti, quali sono appunto l'autore del libro, Luciano Violante, e l'ho presentato anche nella sua qualità di raffinato intellettuale, oltre che di protagonista della storia politica di questa nostra Italia. Dall'altro lato poi c'è Matteo Renzi, altrettanto protagonista in queste ore, in questi giorni, anche consapevole di avere approfittato dell'errore per creare un capovolgimento. Io farei così, se siete d'accordo, comincerei già con un primo uno-due tra Matteo Renzi e Luciano Violante e a Matteo Renzi che oltretutto è fiorentino, facendoci forti tutti noi della grande tradizione fiorentina che vede protagonista, affidata a tutto il mondo, Niccolò Machiavelli, propongo questo tema perché nel suo libro Luciano Violante fa una distinzione ben precisa tra il combattente in Machiavelli e dall'altro lato invece con Tommaso Moro, colui il quale sottopone, le sottopone l'errore della politica alla suprema legge dell'ethos, ovvero sia, qui sempre perché siamo nel capovolgimento dell'antico nel moderno e quindi nel far sì che la tragedia possa essere rappresentata in abiti moderni, la storia di Bettino Craxi è la storia di Aldo Moro, Bettino Craxi che riesce anche nel capolavoro di vincere un'inaspettata e di guadagnarsi un'inaspettata vittoria con Reagan e dall'altro lato invece Aldo Moro che non apre lui il conflitto, al contrario, sono quei giovani che lui avrebbe voluto capire che aprono un conflitto con lui portandolo alla morte, due modi di interpretare la politica in vista dell'errore e quindi io da Matteo Renzi chiedo, a Matteo Renzi chiedo, quale su queste due strade lui colloca la sua azione politica, anche perché immagino che lo stesso Matteo Renzi abbia fatto conto, come Violante stesso lo dice su se stesso, degli errori nella propria giornata politica. Intanto grazie, suggerisco a tutti di leggere il libro, io mi sono preso un impegno quando facevo il sindaco della mia città, il primo impegno era che non avrei mai presentato un libro senza averlo letto, che detta così è un po' banale perché tutti devono leggere i libri, ma in realtà per chi fa il sindaco il politico l'abitudine di presentare i libri senza averli letti è drammatica, leggere il libro di Violante ha un grande valore, intanto aiuta a riflettere sulla figura secondo me più bella che è quella di Antigone, fin dei tempi per me del mondo scout, poi degli esami di filosofia del diritto, poi ovviamente della rappresentazione della tragedia, Antigone è tutto ciò che ti fa porre delle domande sulla tua vita prima che sulla politica. Violante ne dà una versione, o meglio ne coglie alcuni spunti per riflettere su se stesso e sugli altri di indubbio interesse. Prima di rispondere a domande tutto a fuoco voglio dire che se c'è un personaggio interessante tra i tanti che vengono citati, se c'è un aneddoto interessante tra i tanti che vengono citati è quello che nel finale del libro riguarda un sacerdote, un sacerdote che è violante, giovane magistrato, giovane PM interroga, lui lo chiama il sacerdote reticente, io non sono riuscito bene a capire a quale vicenda si riferisca, ma è senz'altro una vicenda interessante della cronaca giudiziaria del violante magistrato, del violante pre impegno politico e alla fine la conclusione del libro che non è che si sta svelando al finale, il sacerdote reticente disse che il più grave errore degli errori è presumere di non commettermi, questo forse è l'unico errore che non ho commesso scrive Luciano nella sua conclusione, scrive il Presidente durante la sua conclusione e io mi sento dunque appartenere a questa categoria, chi fa politica ma chi vive intensamente la propria esistenza non può non commettere errori e la commissione degli errori è uno dei pezzi più belli nella propria esperienza, saper ripartire dopo un errore è molto faticoso, è molto difficile, non mi ricordo chi diceva, forse Beckett sbaglierò meno, sbaglierò meglio, che è una cosa molto vera, si sbaglia, si sbaglia sempre e si riparte sempre. Ora nella domanda che pone Buttafuoco però vado in difficoltà, egli mi chiede di scegliere tra un approccio, non lui, ma il libro mi propone un'alternativa tra il modello Machiavelli e il modello Moro, intendo Tommaso Moro, che per me è come mettere in sfida le due appartenenze, l'appartenenza fiorentina, io ho lavorato in quel palazzo vecchio che aveva visto Sir Nicolò indiscusso protagonista e l'appartenenza, lasciatemelo dire, ecclesiasta, Tommaso Moro è infatti stato definito da Papa Giovanni Paolo II, da San Giovanni Paolo II, il patrono dei politici cattolici, dunque è un'appartenenza molto difficile, non riesco a scegliere tra Machiavelli e Moro. Nell'esempio che Buttafuoco fa invece, declinando il dualismo Machiavelli-Moro, c'è riferimento a un altro Moro, Aldo Moro, con Bettino Cazzi, sono pagine molto godibili, quelle di Violante su questo, suggerisco a tutti di leggerle. Per quello che riguarda la domanda che Buttafuoco fa a me è difficile dare una risposta, intanto perché non sono degno di essere paragonato a tanta storia. Poi perché in uno dei miei discorsi al Senato, quello forse a cui tengo di più, che è quello dopo l'inizio di una indagine giudiziaria, un'indagine open nel dicembre 19, io feci proprio due citazioni, citai sia il discorso del 1977 alla Camera dell'Onorevole Moro che Violante ripercorre nel suo testo, molto bello tra l'altro perché è un discorso, devo dire che con la maestria che tutti noi gli riconosciamo, Violante che ancora non era in Parlamento, fa notare come quel passaggio sul non ci faremo processare nelle piazze è un po' più complicato, un po' più serio di come viene raccontato nella sintesi da tweet della politica di oggi e dall'altro lato quello straordinario discorso di Bettino Craxi del 3 luglio del 92 altrettanto efficace, ancorché anche in quel caso un discorso difficile e presagio di funeste avventure anche per lo stesso Craxi dove c'è un pezzo ulteriore di cui nessuno parla e c'è tutto il pezzo su come Craxi aveva capito prima degli altri, la crisi europea, lui parla di Maastricht, parla di come si arriverà a una crisi della finanziarizzazione dell'Europa, la sottovalutazione dell'immigrazione. Tutto questo per dire che caro Pietrangelo non sono degno di essere nemmeno minimamente avvicinato a cosanta storia. A chi mi sento più rappresentato negli errori? Beh io posso chiederti, ma proprio perché il precipitato della teoria va nel quotidiano, ma in questa vicenda c'è stato più Machiavelli o Tommaso Moro? Perché le procedure comunque sono saltate e il risultato è di là da venire. Allora, sapendo saltare Giuseppe Conde, non ricordavo il nome, c'è stato più Machiavelli o c'è stato più Tommaso Moro? Nel caso mio parlo di come ho gestito la vicenda, io ho molto più Machiavelli che Moro, dal punto di vista mio, io parlo con grande libertà, diciamo che le mie ultime due initiative politiche di un certo spessore, vale a dire l'agosto 2019 nei confronti del senatore Salvini e il gennaio e il febbraio 2021 nei confronti del professor Conte, l'ispirazione è stata molto più Machiavellica che, non so come definirla Moro, certo non Morotea, non so come possiamo definire Tommaso Moro, sicuramente Luciano troverà un'espressione per definirla migliore della mia. È chiaro però che, e su questo chiudo, questo rispetto all'attualità, molto più Machiavellico per tanti motivi, ma evidenti, nel senso che, se vuoi facciamo un secondo giro dopo. Mi limito a due ultime considerazioni rispetto a me. Io trovo molto vero l'analisi che fa Violante dell'errore di Creonte e quando cita ad esempio i miei errori, segnatamente fa un riferimento molto corretto al referendum costituzionale del 2016, io penso che nel mio caso l'errore allora non è stato neanche, come tutti dicono e come in parte dice anche Luciano, la personalizzazione. È stato l'arroganza che si è tradotta non solo e non tanto nella personalizzazione del referendum. Io parto a presupposto che l'avrebbero personalizzato comunque, cioè che quando tu ricevi l'incarico di formare il governo per fare le riforme, se non le fai vai a casa, punto. Quindi non è che stai personalizzando. Il mio errore è stato, se vuoi, ancora peggiore, ancora più grave. La jubilis, verrebbe voglia di dire, e in questo riconosco l'analisi implacabile e impietosa che fa Violante e mi piace molto rispetto ai limiti di Creonte, perché io ad esempio l'errore più grande che ho fatto sul referendum è stata l'arroganza di pensare che non dovessi soltanto vincere, ma che volessi vincere con una certa percentuale di affluenza. Cioè nessuno ha mai avuto il coraggio di dire che quella enorme, clamorosa sottovalutazione che ho fatto, o se volete esasperazione arrogante che ho fatto, non sta tanto nel legare le mie sorti alle sorti del referendum. Quello era scritto che il governo sarebbe andato a casa o non avesse fatto la riforma. Perché? Perché Napolitano mi aveva dato l'incarico esattamente per fare la riforma. Ma il punto molto più grave del mio errore è stato quando io tra marzo e aprile, poco prima del referendum sulle trivelle, vedendo i sondaggi che mi davano 70-30 in vantaggio sul sì, vedevo il dato negativo dell'affluenza che stava tra il 25 e il 30. E allora lì è stata la mia iubris e la mia arroganza clamorosa. Questo è stato l'errore più clamoroso che nessuno peraltro mi rimprovera, ma che è l'errore più grave che io ho fatto. Cioè io ho pensato, non mi basta vincere, perché poi domani avrò il fatto quotidiano o libero o chi altro che mi dirà che io ho vinto senza avere la maggioranza assoluta della partecipazione al voto. Allora ho lavorato perché crescesse la partecipazione al voto e lì ho costruito la mia sconfitta, io ho costruito la mia distruzione, la distruzione di quel referendum. E allora finisco. In questo Antigone e Creonte sono due esemplari straordinari che hanno appunto segnato, mi ricordo Violante lo evidenzia, come fa il conto di quante rappresentazioni sono state fatte diverse dell'Antigone, mi pare più di 1500, se non ricordo male nel testo comunque se ne parla, e Antigone e Creonte sono la bellezza della vita, non soltanto della filosofia del diritto o della politica. Però quello che trovo affascinante è questa consapevolezza dell'errore del potere, di quando il potere smette di essere verbo, poter cambiare, diventa sostantivo, potere in quanto tale. Creonte da questo punto di vista è legittimato da le regole, anzi quasi stupito che Antigone non le rispetti, quasi obnubilato dall'amore del figlio e dalla volontà di Antigone di scegliere la morte pur di rispettare una legge divina e da questo punto di vista il libro è veramente un libro che dovrebbero leggere i ragazzi che vogliono fare politica, cioè insegna Creonte, Creonte insegna a ciascuno di loro che in politica si può commettere errori, si commettono errori, anche in magistratura direbbe Luciano o nella vita quotidiana, ma la grandezza è imparare dagli errori, da questo punto di vista questo libro è veramente un libro prezioso e affascinante. Grazie, sbagliando si impera avrebbe detto Leo Longanesi a questo punto. Io passo adesso la parola a Luciano Violante che è l'autore del libro, mi pare di capire appunto da questo primo passaggio che il discrimine è sempre tra le regole e i valori, la costruzione delle regole e se i valori fanno capolino in questo binario per poter sopravvanzare e cambiare perfino le regole del gioco. Io credo che appunto questo sia un argomento e io propongo a Luciano Violante di procedere così. Innanzitutto cogliere gli spunti che ha offerto Matteo Renzi nel suo primo intervento e poi anche a lui io voglio chiedere proprio forte della sua esperienza nelle istituzioni, nella vita politica, nella vita della magistratura, come lui personalmente ha regolato i conti con i suoi errori e qual è tra questi errori quello che in assoluto attende una soluzione. Mi viene da pensare l'argomento forte per esempio di queste giornate è il caso Palamara. Cioè la voce di Luciano Violante credo che ci interessa proprio perché ci accompagna sia per il proprio impegno sia per le proprie consapevolezze e competenze in questo percorso. Bene, grazie Daniela Bonato e Molino non solo perché esserci qui ma per come ha aiutato la confezione di questo libro e poi Matteo Renzi che credo abbia anche altro da fare oltre che partecipare a questo dibattito, sta dedicando del tempo a questo e gli sono grato. Dunque io credo questo che errori, la politica è a decidere e quando si decide si sbaglia, si può sbagliare. Il problema e qui sono d'accordo con Matteo Renzi è riprendersi dall'errore, il politico non deve farsi schiacciare dall'errore, deve poi ripartire, riprendersi e magari non subito perché non sempre è possibile farlo subito ma ripartire è fondamentale. Pietrangelo ha citato il Guerrione e la Rena, il famoso discorso di Roosevelt nel 1911, devo dire che parlando con Matteo Renzi qualche tempo fa e facendo riferimento a questa figura, credo anche lui si è affezionato a questa figura di chi lotta, può anche essere sconfitto ma lotta e questa è la cosa importante nella vita, dare un senso alla propria vita impegnandosi per qualche obiettivo. Qualche volta può andare anche al di là delle regole, naturalmente questo è un discorso un po' scivoloso, le regole vanno sempre rispettate naturalmente però ci possono essere dei punti di rottura quando è necessario perseguire quel valore che le regole ti impediscono di perseguire, non può essere questa scelta abbandonata ai desideri, alle opzioni, alle ideologie del singolo, deve essere una scelta che piuttosto fa parte di un collettivo, di una comunità che decide che quelle regole non vanno più bene e vanno superate. In politica poi le regole, non ci sono regole, l'unica regola che ho imparato in politica, non so se Matteo è d'accordo, è il rispetto. Una volta che c'è il rispetto dell'altro, tutto il resto si può fare nei binari del rispetto perché non c'è nessuna predisposizione, diciamo così, di meccanismi. La politica è una scienza libera in cui l'unica regola è rispettare l'altro e rispettare anche se stessi quando si ha un conflitto. Poi si può vincere, si può perdere, questo fa parte della dinamica delle cose. Pietrangelo Buttafoca ha citato il caso Palamara, la giustizia eccetera. L'errore è nella struttura della giustizia. Non c'è paese che non preveda la correzione dell'errore, l'impugnazione, il ricorso in casa azione, quello che sappiamo. Tutti i paesi lo prevedono perché nella giustizia, nel sistema giudiziario l'errore è sempre possibile. Le impugnazioni servono proprio a questo perché hai presupponi che ci sia l'errore. E quel sacerdote di cui parla Matteo Renzi, lo ringrazio per la citazione, è un sacerdote che mi ricordava l'errore, la possibilità dell'errore durante un lungo e pesante interrogatorio. La possibilità che non si riferiva al suo interlocutore che come interlocutore io, si riferiva all'errore nel giudizio. Chi giudica deve sapere che può commettere un errore, non può presupporre che sta facendo bene, che lì c'è il momento dell'arroganza e quindi c'è il momento dell'errore proprio perché si è arrogante. Per la questione, in politica, per quello che ho visto io, soltanto i deboli o gli incapaci diciamo così, sono crollati sotto l'errore, non si sono più ripresi. Personalità politiche che hanno sbagliato tutti, hanno sbagliato Moro, hanno sbagliato Andreotti, tanti hanno sbagliato, hanno sbagliato Craxi, hanno sbagliato gli altri, però ecco quelle erano personalità che poi erano capaci di riprendersi e riprendere a combattere, riprendersi e impegnarsi. Io credo che questo sia il messaggio che noi dobbiamo lasciare dare alle generazioni più giovani. Guardate il problema, se non si sbaglia è meglio naturalmente, però non pensate che non potete sbagliare, si può sbagliare, però valutate l'errore, riflette e ripartite. Non fatevi schiacciare dall'errore, dominate, guidate la vostra vita, dominate la vostra vita. Perché Creonte sbaglia? Creonte sbaglia perché si fa schiacciare dall'errore, non capisce che a un certo punto la partita è persa e deve trovare una correzione, lo capisce troppo tardi. E poi stare a sentire quello che succede attorno, quando il figlio di Creonte gli dice guarda che qui la gente la pensa come Antigua, la pensa come te e quindi sta attento, non te lo dice perché tu sei potente, ha paura di te, ma ascolta, capisci bene che sta accadendo. Ecco questa è un'altra cosa che chi fa politica deve capire, cercare di capire che cosa gli succede attorno. L'ultima osservazione è questa, i fatti politici si giuricano dei risultati, guardate, non le procedure, si giuricano dei risultati. Se il risultato alla fine è positivo, l'azione politica è stata giusta. Se il risultato alla fine è negativo, l'azione politica è stata sbagliata e non c'è altro criterio, devo dire. Perché poi se voi guardate anche il corso delle storie, il corso delle storie ci dice questo, che quando la scelta era giusta, anche se in quel momento è stata considerata sbagliata, ha dato risultati giusti. Poi ripeto, c'è chi si appella alle procedure, ma insomma i proceduralisti a me non sono mai piaciuti, devo dire, perché sono soggetti che stanno all'interno del labirinto, ma non cercano di uscire. Non sfondando i muri, ma intelligentemente, cercando di superare il labirinto, senza restare i prigionieri. E quindi io dico tutte quante le scelte politiche vanno giudicate sulla base dei risultati. Credo che questo è il dato di fondo che va… La scelta politica che fece Matteo Rezzi a tempo del referendum, che come Matteo sa, io sostenni, fu una scelta politica che produsse un errore, certamente. Perché? Perché si perse il referendum e guarda quella sconfitta del referendum. Non fu soltanto sconfitta del referendum, fu il cambio di fase. Cambiò una fase della vita politica italiana. Tant'è che poi la riforma che abbiamo avuto successivamente, quella di riduzione dei nuovi parlamentari, è stata, a mio avviso, un disastro, perché non aveva quella cornice attorno che aveva la proposta che aveva fatto Renzi. Ma insomma, questa è una mia opinione personale che fuoriesce da questo ragionamento. Ecco, io invito sempre, e finisco, a considerare se una scelta politica è giusta o sbagliata aspettando il risultato. Grazie. Il guerriero deve stare nella polvere. Il guerriero si ritrova nella polvere. Gli errori, quindi, sono fondamentali, soprattutto per incontrare la realtà. Quello che è venuto meno, spesso, è stato questo rapporto con la realtà. Tant'è vero che ci siamo preoccupati sempre di fronteggiare i sintomi e di non cogliere mai quello che provoca la malattia, quello che genera il disagio. Ed è stato un difetto della politica. Ma ci domandiamo, in questo passaggio d'epoca, è un argomento con cui spesso, per il privilegio di incontrare Violante, discuto con lui. È un periodo in cui noi abbiamo assistito al tramonto, più che della politica, dei partiti. E ci troviamo nella situazione in cui questi partiti non hanno avuto eredi, non hanno saputo trasmettere eredi. Io sono curiosissimo, e soprattutto alla luce della lettura di Insegna Creonte, e quindi del confronto con l'errore. Sono curioso, a questo punto, di avere il punto di vista di Matteo Renzi, riguardo anche, e soprattutto alla sua esperienza personale, proprio da protagonista della politica, di capire di chi si sente erede o se lui si vive come un successore. Di tante, tantissime pagine della storia politica italiana. Prima abbiamo citato Bettino Craxi, a molti lui ha ricordato Bettino Craxi. Poi abbiamo citato Aldo Moro, l'esperienza politica di Matteo Renzi nasce nella democrazia cristiana. Ma poi, nel frattempo, abbiamo avuto la stagione del berlusconismo. Il nostro comune amico, Giuliano Ferrara, ha scritto un libro, Royal Baby, immaginando e descrivendo in Matteo Renzi l'erede di Silvio Berlusconi. Le giornate che stiamo vivendo, le ore che stiamo vivendo, rappresentano un ulteriore capitolo di un qualcosa che, come dice Luciano Violante, deve essere giudicata in base ai risultati. Il chi vivrà, vedrà, si saprà quanto prima. Ecco, Matteo Renzi si sente erede o successore? E di chi? Di tutto questo straordinario album della politica italiana. Credo ci sia una... Scusate, eccolo qua. No, avevo spesso... Scusate. No, di costante le proporzioni è impossibile definirsi eredi di cotanta storia, quindi al massimo miseri successori. Però rispondo subito, cerco di rispondere subito alla domanda di Buttafuoco, non prima però di aver sottolineato due aspetti delle cose che ha detto Violante e un passaggio rapido di Buttafuoco, anche con un'ammissione di mio errore e poi provo a rispondere alla domanda. I due passaggi sono il primo e il tema del rispetto, che come ricorda anche la radice, l'etimologia della parola è un guardare per bene, un guardare a fondo. Noi non siamo abituati al guardare fino in fondo. Noi viviamo una società in cui i selfie hanno preso il posto dello sguardo. Cioè non è mai esistita nella storia dell'umanità una così forte capacità di farsi delle foto, di farsi dei ritratti, di guardarsi, ma non di guardarsi dentro. Ora non voglio domandarsi quanti pixel all'anima con un'espressione che sarebbe un pochino forte, ma il tema è che noi siamo pieni di occasioni in cui ci facciamo delle foto, in cui ci facciamo dei selfie, ma non ci guardiamo, non ci rispettiamo. Di fatto la parola rispetto viene da chi si guarda più volte dal latino. E in questo senso sarebbe affascinante capire come la politica debba guardarsi a fondo. Ora non voglio andare sull'attualità, ma tutto il tema della comunicazione monocorde che c'è stata in questi tre anni rispetto a delle veline che arrivavano nel primo anno e mezzo dal Viminale, nel secondo anno e mezzo dal Palazzo Chigi, in una costruzione di narrativa e di narrazione costante, sarebbe affascinante per capire davvero quanto ci siamo guardati dentro quello che veramente eravamo e quanto quindi abbiamo avuto rispetto, capacità di guardarsi. Secondo punto, io trovo fantastica la riflessione di Violante sul fatto che Creonte sbaglia perché la correzione arriva tardi. O meglio, la correzione arriva in tempo, ma lui se ne accorge tardi. Cioè la cosa più drammatica non è che Creonte va avanti aderito per la sua strada, ma che cambia l'idea e capisce quando è troppo tardi. E qui c'è un passaggio che, se volete, è devastante, è l'elemento più, secondo me, drammatico della tragedia. Perché non è uno che non si rende conto dell'errore, ma che quando si rende conto dell'errore non riesce a rimediare perché comunque ha già combinato il disastro finale. Dicevo l'ultima cosa rispetto a butta fuoco. Lui ha fatto un passaggio sui partiti. Sarebbe appassionante aprire adesso un dibattito su cosa sono i partiti. Permettetemi di dire, senza alcuna riflessione sull'attualità, ma insomma abbiamo iniziato una legislatura con la vittoria dei partiti anti-europeisti e la concluderemo con Mario Draghi, presidente del Consiglio. Abbiamo iniziato una partita in cui tutti dicevano non ci alleeremo con e poi abbiamo visto i 5 Stelle allearsi prima con la Lega, poi con il PD, oggi presumibilmente da quello si capisce con una maggioranza istituzionale e non politica ancora diversa. La stessa interessantissima svolta che ha fatto questa mattina Matteo Salvini è una svolta che nei partiti vecchia maniera sarebbe stato impossibile fare. Poi voi direte, ma caspita tu hai fatto il segretario di un partito che ha ottenuto il 40.8% e per rimanere alla storia soltanto a Mintore Fanfani nel 58 abbiamo fatto un risultato analogo, cioè per 56 anni dal 58 al 2014 nessuno ha ottenuto quel risultato. Quindi io ho le mie responsabilità nel non aver costruito una cultura politica di partito accanto al risultato elettorale o al buon governo, perché quasi nessuno si lamenta del nostro governo, quasi nessuno apprezza il mio lavoro come segretario del PD e questo deve farmi riflettere rispetto a tutti i temi che da insegna creonte potrebbero aprire ulteriori discussioni. Però c'è una riflessione più puntuale chiesta da buttafuoco a cui non so dare risposta, nel senso che non mi ritengo erede di nessuno perché l'eredità implica un'accettazione ma anche un lascito e io sono convinto che per l'alta stima che ciascuno di loro aveva di se stessi e della propria qualità nessuno avrebbe pensato di poter definire erede uno come me. Successore sì, lo sono stato tecnicamente di molte delle persone che tu hai citato, se però la domanda era su una sorta di auto o di carta di identità che tu chiedi a me, io dico che vengo da una cultura nella quale il primo esempio politico che ho avuto in famiglia, indicato da mia madre, era Bob Kennedy. In particolar modo il Bob Kennedy che dice che manda l'esercito degli Stati Uniti a garantire il diritto di uno studente di colore di entrare in un'università nella quale i bianchi non facevano entrare i mievi. Vengo da una cultura politica in cui per me l'espressione Zac significa tante cose perché Zaccagnini era l'immagine di una democrazia cristiana diversa da quella di prima, io non sono mai stato democratico cristiano forse più per ragioni di tempo che per altro. Ho fatto una tesi di laurea su Giorgio Lapira perché quella cultura politica mi sembrava a casa mia, la cultura politica della Pira sindaco, amministratore prima ancora della Pira professorino alla Costituente, sono un passionato dei discorsi parlamentari di Mino Martinazzoli per restare in quest'area, però sono anche quello che quando era nel PD ha fatto di tutto per portare il PD dentro ai socialisti europei, perché quella è la casa del Partito Democratico e non mettere il Partito Democratico in quella casa sarebbe stato secondo me un errore. Dopodiché un errore, ti dico una cosa che così ti stessa, ma più una civetteria che non altro, nel corso della crisi, diciamo lunedì scorso, martedì non ricordo, un autorevole scerpa, senti? Un autorevole scerpa del Partito Democratico, mi ha chiesto alla domanda su che si fa con Conte, io ero lì che mi dicevo guarda, stiamo di capire se si va a un Conte Tev o già allora si immaginava un governo guidato da una personalità autorevole importante, quale? Ad esempio Mario Draghi mi ha fatto questo esempio, un autorevole scerpa del Partito Democratico che viene dalla cultura democristiana. devi decidere se essere come noi della sinistra di C, che alla fine tutte le volte in cui c'era da tagliare la testa ci fermavamo, o se vuoi essere Andrea Ottiano che alla fine tagli la testa e chi si è visto si è visto. La persona che me l'ha fatto non farò nessun tipo di nomi e di riferimenti a attuali ministri della cultura di origine ferrarese e di provenienza sinistra di C, così che nessuno possa capire a chi mi sto riferendo, però il concetto è che la mia cultura politica, la mia città politica, la mia... Mi pare di capire sia uno scrittore. Anche uno scrittore, diciamo così. Dico, mi pare di capire sia uno scrittore. Mai potrei fare una persona in questione che mi ha posto la domanda, però devi decidere se sei della sinistra di C o sei di Andreotti, questa è stata l'espressione di Dario, però al di là delle battute ti dico, io credo di essere in una grande contraddizione, che è quello che ha cercato di... che è avvenuto fuori nella politica italiana con la logica del rottamatore e come cultura politica io sono uno di quelli che si innamora del passato in realtà. Io sono laureato in storia del diritto, io quando vedo il tuo libro su Longanesi mi emoziono pensando a quella... diciamo a quella cultura politica che oggi non c'è più e tuttavia non sono in grado di definirmi in regia di nessuno, successore di tanti, forse persino di troppi. Grazie, grazie. Quindi si sente la eco delle giubbe rosse. Vedo anche prezzolini e soffici. Immaginate per un attimo di trovarvi a Siracusa. L'INDA è una grande istituzione, ogni anno, speriamo che la pandemia finisca, ogni anno presenta il proprio repertorio e tante volte questi versi si sono sentiti. È fuori dalla città chi frequenta il male per compiacersi la sua audacia temeraria. È un capitolo molto bello del libro di Luciano Violante, la gabbia dell'ira, il sentirsi accerchiati, il sentirsi accerchiati, che è già una sensazione che descrive il contesto di una Italia incompiuta. Vedete, io sono di parte e io mi sento il dovere pubblico di ringraziare Luciano Violante perché nel suo incarico, quando viene eletto presidente della Camera, fa un discorso che forse oggi sarebbe improponibile, impossibile da pronunciare. A proposito dell'errore e a proposito della politica come costruzione della città. Io gli chiedo adesso di raccontare agli ascoltatori, che sono i lettori, il senso di questo capitolo, la gabbia dell'ira, e di mio aggiungo una domanda. Chissà se questa occasione possa essere finalmente, mi riferisco ovviamente alla formazione del nuovo governo, un'occasione per raggiungere quella pacificazione che il presidente Violante auspicava dalla Camera dei Deputati. Ma io mi permetto di dire una cosa, io non parlavo di pacificazione, chiedo scusa a Pietrangio, anzi dissi non c'è pacificazione, il problema è un altro, è quando riconosci la storia dell'altro, cioè c'è un rifiuto ad entrambe le parti di riconoscere il valore della storia dell'altro e credo che questo sia il punto, quindi non riconosci l'altro, non riconosci l'altro e quando non si riconosce l'altro la politica rischia di degenerare ogni momento, ogni passo, perché non dai all'altro il valore che merita, poi la penserà come te, la penserà diversamente e così via, però è impossibile che tu abbia sempre ragione e l'altro abbia sempre tolto, insomma questo è il punto. E quindi c'è, ecco, se vogliamo parlare di pacificazione, c'è una pacificazione degli animi, non delle situazioni politiche, non di questo, ma degli animi sì, di quello c'è bisogno. Ecco, quanto alla questione dell'ira, beh capita a tutti in momenti di ira, specie quando ci sono scontri politici eccetera, lì un suggerimento che mi dette un vecchio compagno molti anni fa, in una situazione in cui stavo per chiudermi nella gabbia dell'ira e disse ferma le macchine, cioè ferma, sta attento, adesso qualunque cosa fai al bagli, quindi aspetta, fermati e rifletti, ferma le macchine e con quello credo che sia un suggerimento da dare a chi fa politica e può trovare un certo punto, fermare le macchine e riflettere, questo è importante. Quanto alla questione dei partiti che tu ponevi e ragione Matteo Renzi ci vorrebbe come dire una riflessione lunga su questo, però io sto riflettendo, quei partiti si sono suicidati senza testamento, dico io, nel senso che non hanno pensato al futuro dell'organizzazione della quale erano, nel partito della democrazia cristiana, nel partito comunista, socialista c'era sempre massima attenzione a quello che sarebbe successo dopo, ciascuno pensava, i dirigenti pensavano naturalmente al loro futuro, ma il loro futuro non ha disgiunto dal futuro della organizzazione complessiva, pensavano al futuro dell'organizzazione e quel punto di cesura e rottura che si ebbe nel 1993 è che quei partiti non pensarono al futuro, ma pensarono al futuro forse di alcuni gruppi dirigenti e quindi come dico io si suicidarono senza testamento e quando non è testamento, qui sono d'accordo con Matteo Renzi, non ci sono successori, non ci sono, perché nessuno è stato incaricato di dirigere quella macchina dopo, la direzione è stata presa un po' casualmente, accidentalmente, in base a lotte, non sempre di altissima qualità e così via. I successori sono stati in gran parte autodidatti, io ora guardavo un momento, Matteo Renzi è nato nel 1975, nel 75, allora nell'89 aveva 14 anni, caduta nel muro di Berlino, la sua generazione si è trovata nel casino generale di Tangentopoli, della autodistruzione dei partiti, due stragi di mafia. Insomma queste cose Berlusconi, con tutto quello di Disruptive lui ha portato nella vita politica italiana, anche intelligentemente, non solo come dire, ma insomma io capisco una generazione di quel genere si è dovuta ricostruire una identità politica, c'è chi c'è riuscito come Matteo Renzi, altri non ci sono riusciti, altri sono rifugiati in varie case matte, però insomma il punto vero, e ne abbiamo parlato a volte, i maestri, la mia generazione è stata fortunata perché ha avuto maestri, sia grandi maestri, sia piccoli maestri, i compagni quotidiani che ti aiutavano nelle cose e ti facevano capire dove stavi sbagliando, dove facevi bene. Ecco, come si ricostituisce il maestro, cioè colui non che ti dà nozioni, quella è la scuola su Wikipedia, quella che ti insegna comportamenti, perché la chiave è questa qui, se io vedessi una carenza oggi, vedo una carenza di comportamenti, non una carenza di emozioni, quelle ripeto si possono aprire, ecco qui c'è un punto di fondo, il comportamento, come si fa a trasmettere comportamenti? Bisogna cercare di ricostruire comunità, comunità umane, non comunità digitali, e se non lo si fa, forse la mia generazione è già fuori, è troppo tardi per impegnarsi, ma forse quella che appartiene Matteo Renzi potrebbe porsi questo obiettivo, ricostruire comunità politiche, determinate da valori, da solidarietà interna, da identità e appartenenza, perché poi attraverso le comunità, poi dalle comunità i maestri vengono fuori, i maestri non vengono fuori dalle solitudini, questo mi sembra. Nel libro di Luciano Violante c'è un concetto che mi ha colpito particolarmente, per la sua evidenza, per la sua semplicità, ma allo stesso tempo profonda complessità, e cioè quando dice che la politica deve far sorgere le emozioni, non inseguirle, ed è nel solco di questa esigenza, quella di individuare dei maestri. Io a questo punto, nell'avviare alla conclusione, farei così, e cioè che affido la domanda di Luciano Violante a Matteo Renzi, e poi inviterei Matteo, e poi inviterei Luciano Violante a chiudere questa nostra conversazione, questa nostra presentazione. Prego. Io faccio la domanda a Luciano. Va bene. È corretto, posso fare io la domanda? Grazie, prego. Certo, ovviamente le conclusioni le farà poi il presidente Violante, quindi la domanda. Chi mi fa una considerazione, per approfondirlo, fantastico, è un prezzo sulla nostra generazione. Io sono le 75, ho 18 anni. Aspetta, non funziona il microfono Matteo. Adesso, 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 l'audio sì, il video non si è sparito. Sì, adesso sì. Adesso sì. Adesso sì. Adesso sì. Allora, sarebbe affascinante, non abbiamo tempo, tutto il tema della nostra generazione. Io nasco nel 75, faccio giurisprudenza, perché rimango sconvolto ciò che accade nel 1982. Scusa Matteo, non funziona il microfono Matteo. Non funziona il microfono. Non si sente più? Adesso vediamoci. Adesso sì. Adesso sì, devi avvicinare. Ti devi avvicinare. Scusa. Allora, vediamo se adesso funziona meglio. Sì, sì. Dico, 1993, io ho 18 anni, faccio 18 anni nel 93. La prima volta in cui voto c'è già Berlusconi. Non ho votato Democrazia Cristiana, essenzialmente perché non ho fatto in tempo. La nostra generazione non ha avuto maestri. E questo è un tema che è violante a posto ed è un tema affascinante. La generazione precedente alla nostra andava alle riunioni e se leggeva un libro politico era figo. Tu andavi, la mia generazione andava alle riunioni, se leggeva un libro politico era sfigato. Questo, utilizzo due espressioni, tutt'altro che da mulino, per dire che cosa? Per dire che c'è un tema affascinante del rapporto maestro e allievo. Mi piacerebbe moltissimo discutere di tutti questi temi, soprattutto nell'anno in cui si ricorda i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Non dimentichiamo mai che Dante inizia il cammino perché c'è un maestro, non mi mosse io. Tutto il racconto di Dante è Virgilio, ha bisogno di una guida, di un maestro. Tutti noi nella nostra vita avremmo bisogno di maestri. La mia generazione non li ha avuti. E se li ha avuti, quelli pure bravi, pensate soltanto a Craxi, per fare un riferimento. Parlare bene di Craxi nel 93 era impossibile. chi avesse parlato bene di Craxi sarebbe stato immediatamente etichettato come un pazzo scatenato. Io ricordo di aver fatto un atto di resistenza civile mia e di essere andato al giorno della mia maturità, nel giugno del 93, a una coppia del giorno di Paolo Ibuo e Lona, che era l'unico giornalista... Non funziona il microfono? Non funziona il microfono. Cerco di farla breve, tengo in mano. Finisco, faccio la domanda, così che forse evito di fare comiziacci finali. Una domanda secca a Luciano è, chi è l'antigone di oggi secondo te? Mi cogli impreparato, guarda. Anch'io non sapevo di fare la domanda, perché sono andato lì. Mi cogli impreparato. Forse non ci sono antigoni, perché non c'è nessuno che si batte per valori superiori. Però forse è troppo pessimistica come osservazione, vorrei rifletterci meglio. Dunblen mi viene da dire, non vedo persone che si battono a valori superiori. Non so, ora che si parli, vedo un qualcosa di antigo nel Papa Francesco, che lui è minoranza. Lui è minoranza anche nella comunità, nel gruppo dirigente cattolico, si può usare questa espressione come gruppo dirigente, perché lui è minoranza lì e cerca di affermare valori che non sempre gli altri capiscono, non sempre gli altri condividono. Questo nella Fratelli Tutti, quando dice a un certo punto della verità che insieme a giustizia e misericordia ricorda che cos'è, io sono credente ma non sono cattolico, credo che la misericordia sia la consapevolezza dei limiti dell'altro e dei propri limiti. Cioè avere consapevolezza vuol dire rispettare i limiti dell'altro e rispettare i propri limiti. E lì dentro c'è la verità. E forse mi pare, ecco, se dovessi rispondere riflettendoci bene, forse Francesco è una delle antigoni contemporanee. Poi chi sono i creonte nei suoi confronti? Beh, questo appartiene, come dire, a un altro capitolo della nostra riflessione. microfono, microfono Pietrangio. Sì, sì, dicevo mi pare che si possa concludere qui il nostro incontro. Io vi ringrazio e un ringraziamento speciale, se l'editore Daniele Abbonato me lo consente, lo voglio fare ai librai, alla loro fatica, alla loro immane fatica. Il fatto stesso a proposito di politiche d'errori, Luciano Violante ce l'ha ben presente, anche Matteo Renzi di certo, che intorno a Montecitorio c'erano ben quattro librerie. Di fronte all'ingresso centrale, trionfante c'era perfino la libreria Herder tedesca. Ebbene, sono sparite tutte qua. È impressionante questo fatto e quindi io ne approfitto sempre nel salutarvi. Ogni volta che ho un'occasione pubblica faccio un appello a tutti affinché proteggano le loro librerie, proteggano le sale cinematografiche, proteggano i teatri. Fare in modo che siano sempre aperti perché da lì si attraversa per raggiungere e guadagnare lo spirito critico, che è la nostra patente di libertà. Chiedo scusa all'editore se mi sono permesso. E grazie a Matteo Renzi, grazie a Luciano Violante e grazie a chi ci ha seguito. Arrivederci. Grazie, grazie Daniele. Grazie Matteo. Grazie Petrangelo.